Musica Musica Arriva nelle librerie Il nuovo libro di Angelo Iannelli Che parla delle tradizioni E del folclore di Brusciano È stato presentato Nella prestigiosa cornice del Caffè Cambrinos Nel cuore del centro di Napoli Il nuovo libro di Angelo Iannelli La grande bellezza della bruscianicità Il pulcinella più famoso del mondo Rende omaggio alla città che gli ha dato i Natali Il testo porta il lettore in un viaggio Nel paese dei Gichi Un itinerario fatto di storie, tradizioni e folclore Un testo che non solo rende omaggio alla mia città natale Ma soprattutto mette in evidenza le tradizioni popolari Quindi io credo che ogni persona deve diventare e ritornare bambino Pensando alla propria città dove è nato Io in questo viaggio nelle tradizioni popolari Ho cercato di mettere in evidenza i protagonisti di ieri I protagonisti di oggi Ma soprattutto la grande bellezza della città in cui sono nato E un'altra cosa importante è soprattutto portare la periferia nella città Mettendo in evidenza anche le voci degli ambulanti Le voci di coloro che hanno reso la città ancora più città Io sono super fortunato in quanto Ecco, sono pulcinella qui a Napoli Lo interpreto con passione e con amore Sarà una serata ricca di emozioni In quanto porterò in scena anche i famosi tradizionali 12 mesi con attori, attrici Quindi sarà una serata veramente bellissima A Napoli Finalmente vinceranno le tradizioni popolari Ma soprattutto il sorriso di chi vuole ritornare bambino Partendo dalla propria città dove è nato È tutto per oggi L'informazione di Canale 21 torna domani alle 14 Grazie dell'attenzione Una serena notte a tutti Grazie 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 a tutti.